ok ciao a tutti benvenuti è anche registrata ciao a tutti benvenuti a questa ennesima nostra live questa nostra diretta vi presento subito intanto il super ospite di oggi che è un super tecnico è veramente un esperto in blockchain nel senso che proprio la fa a differenza di altri di tanti che anche giustamente non ne parlano a scopo divulgativo lui è founder e co-founder e co-sio di BBPOM che è un exchange di criptovalute che lista anche tra altre tra le varie criptovalute più importanti anche gli LKS ed è anche il creatore vero proprio dell'LKS cioè l'ha fatto lui lavora anche nel mondo blockchain a 360 gradi per cui sia facendo piattaforme che facendo NFT e quant'altro per cui signori un applauso per Omar Baruzzo grazie mille grazie mille della presentazione diciamo è un po' esagerato sembra che abbia fatto tutto io non è proprio così diciamo che ho dedicato molto del mio tempo su questi sviluppi che tu hai appena come posso dire appena illustrato a tutti quanti è un piacere nonché un onore essere in diretta per voi innanzitutto e con voi grazie Omar allora prima di cominciare a parlare un attimino di queste cose anche oggi anche un po' tecniche no? perché è anche bello poi approfondire si sente tanto parlare di queste cose ma io penso che per dare la possibilità alle persone di comprenderle di avvicinarsi e poi di poterne trarre dei benefici per cui magari scegliendo anche di acquistare magari dei prodotti degli strumenti è anche molto importante sapere un pochettino effettivamente come funzionano anche quelle cose tecniche che magari le persone ci stanno ascoltando non dovranno mai fare con le loro manine sulla tastiera però è anche bello insomma sapere un attimino un po' di libretto delle istruzioni darci almeno un'occhiata altrimenti sappiamo soltanto delle cose seguiamo sempre gregge informazione importante ma prima di andare appunto su queste tematiche dove tu sei maestro facciamo un piccolo cappello introduttivo come facciamo sempre per tutti gli amici sia della community di CamTV ci sono sicuramente dei founder che ci stanno seguendo io adesso contemporaneamente alla diretta non ho aperto su Facebook ma posso anche andare a vedere così posso salutare la gente ma ci sono anche magari semplicemente dei creator per cui degli iscritti a CamTV delle persone che hanno preso un abbonamento su CamTV lo stanno già utilizzando per trasformare le loro passioni e le loro competenze in una rendita economica adesso io temporeggio un attimo vado sul canale di CamTV in maniera che vedo subito la nostra diretta eccoci qua ci siamo già siamo già in 27 e faccio un giro di saluti alla nostra community Ivan Russo, Ugo Fornasari grande Ugo ti devo salutare scusa se ti ho interrotto Simone Vannini che ci saluta e anche Massimo Pisani vi ricordo che se avete delle domande potete benissimo farle per noi è un piacere rispondervi senza filtri fateci le domande se poi noi non riusciamo a leggere perché stiamo parlando c'è sempre Emanuele che ci aiuta puntuale che saluto anche Emanuele ciao Emanuele come va? ciao Ale buonasera buonasera anche Omar hai visto che ti ho portato perfino Omar sì sì beh è un grande ospite questa sera ci parlerà della blockchain un punto di vista da chi la realizza alla fine quindi sarà veramente un intervento molto gustoso io Emanuele te lo chiedo sempre se tu vuoi mettere fuori la faccia a meno che tu non sia in disabier a noi fa molto piacere sei giustamente molto amato ricordo magari chi non lo conosce Emanuele ha tante funzioni all'interno di Camp TV e veramente ha fatto cose straordinarie per quanto riguarda il customer care anche in momenti insomma complessi dove c'erano tante richieste proprio per la complessità per l'articolazione di questa piattaforma che come abbiamo detto consente di mettere a reddito passioni e competenze ha davvero tante funzioni quindi tante volte gli utenti hanno bisogno di rivolgersi al customer care ed Emanuele è un punto fisso lo testimoniano ogni volta che dici la parola Emanuele in una live tutti gli apprezzamenti e commenti Simone Vannini, Ema Superlativo C'è anche Stefania Gelmetti che ci saluta e dice ci sono anch'io Ciao Ste, anche da parte mia Allora ragazzi, adesso noi di Camp TV lo sapete abbiamo da poco lanciato questa STO una security token offer per cui è uno strumento finanziario effettivo con un prospetto è stato autorizzato dall'FMA austriaca ed è stato anche recepito dalla Consob in Italia quindi Camp TV può fare questa richiesta questa offerta per degli investimenti questa cosa qui riguarda un po' tutti noi tanto i founder quanto i comers i creator o come vengono chiamati adesso creator ma anche le persone che ancora non ci conoscono ci sono delle release molto importanti nella piattaforma altre ancora altrettanto importanti come ad esempio gli NFT sono diciamo per adesso in progettazione poi vedremo in quanto tempo potremo averle disporne come utenti ma cominciamo da qui visto che ho citato il discorso degli NFT NFT ti faccio un cappello ma so che a te piace parlare solo di cose tecniche prego benissimo mi annoiano sotto un certo aspetto ma chi mi conosce che ci sta seguendo lo sa benissimo esatto allora non fungibile token cos'è? è un token che ha la sua identità e anche il suo interesse la sua funzione per non essere scambiato esatto che non è fungibile quindi non ha una volatilità un esempio vai un esempio se posso interromper no 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 vai vai io creo un token che ha mille pezzi i mille pezzi di quello stesso token sono intercambiabili e scambiabili tra di loro io do un token a te tu dai un token a me ma quando io ti creo un solo token con una sola funzionalità quel token non può essere sostituito né cambiato in nessun caso quindi diventa non fungibile e porta con sé tutte le proprietà di quel token che non potranno mai essere mutate o cambiate ok finito? sì finito sai che sono breve Alessandro allora cosa si può fare ad esempio con gli NFT che è la prima cosa dove tutti ne parlano però poi a farli come funzionano gli NFT? allora facilmente più o meno tutti possono mintare che vuol dire creare e mettere in blockchain un NFT utilizzando una piattaforma che fa NFT ce ne sono tante Rarable OpenSea in Art NFT ce ne sono tantissime in giro nel mondo che fanno cose differenti a seconda di qual è l'opera che uno vuole fare può andare a mintarle però cosa succede? succede che praticamente si utilizza questa interfaccia e si va a prendere un file lo si fornisce a questa piattaforma questa piattaforma lo comprime dentro un server se non sbaglio Omar esatto è un un hash 512 viene fatto un hash di solito un SHA 256 viene utilizzato per ridurre gli spazi rispetto a un 512 ma qui entriamo un attimo nel tecnicismo che ne possiamo anche discutere io farei un passo indietro per far capire alle persone il vero significato dell'NFT e l'esempio che solitamente faccio a chi non è proprio esperto di blockchain ma vuole accingersi al mondo della blockchain è questo voi avete un'autovettura la vostra macchina classica che andate a lavorare voi siete titolari di quell'autovettura perché? perché avete in mano un certificato che conferma attesta che è quella di vostra proprietà di conseguenza avete in mano un certificato di proprietà valido perché? perché c'è un ente centrale ad esempio lo stato italiano la motorizzazione di turno che convalida che quel certificato è valido e quindi tu anche se lasci la macchina parcheggiata in aeroporto a Milano sei mesi tu sei il titolare effettivo di quell'autovettura perché hai un certificato questo è quello che succede nel mondo reale immaginiamo di voler o di avervi la necessità di creare dei certificati di proprietà su delle nostre opere su dei nostri diritti sul mio gatto per assurdo adesso ho fatto una battuta o qualsiasi altra cosa ecco che nasce il concetto dell'NFT quindi io vado a dichiarare in blockchain quindi non a un ente centrale come può essere la motorizzazione di turno ma un ente decentralizzato perché la blockchain è decentralizzata ringraziando Dio vado a dichiarare che io sono il possessore di un determinato bene di un determinato diritto di una determinata cosa e in qualsiasi momento io che detengo quel token non fungibile ne sono e ne vanto la piena proprietà ok mi scusi mi sono spostato vedo se non vado troppo in controluce non so mi vedi? si si vedeva un po' meglio prima però ti vediamo ti vediamo ok ok allora io ho fatto il preambolo di quello che può essere un NFT basato sul mondo reale quindi usciamo dal concetto tu prima hai parlato di di opere ci sono tanti che adesso fanno le proprie opere e creano i certificati delle opere che vengono messe in vendita quindi chi acquista il certificato fra un anno può andare a ritirare l'opera perché è sua in quanto lui è il titolare effettivo dell'opera c'è scritto in blockchain e nessun altro può dire il contrario perché il tutto viene firmato da una chiave privata che è solo di tua proprietà è un po' come il pra per le autovetture insomma esatto non c'è modo che ci siano dei malintesi l'oggetto viene completamente inviato cioè la vera una grande novità della blockchain rispetto a tutti gli altri sistemi è che fino a prima della blockchain se io ti mandavo un'immagine quell'immagine veniva duplicata rimaneva una su una nel tuo invece adesso questa cosa non è possibile perché la proof of work cioè la prova di lavoro il fatto che bisogna pagare del gas per fare questo spostamento permette di fatto la certificazione che in automatico questo file questa sparisca dal mio questa stringa questo codice sparisca dal mio device quindi dal mio possesso entri in possesso la persona a cui l'ho mandato però mi voglio rispostare scusate qui sono troppo forse era più bello lo sfondo ma sono un po' troppo in in ombra ecco così mi si vede mi si vede meglio mi rivedo meglio Omar ok abbiamo parlato un attimino dell'NFT ma come potrebbe essere utile l'NFT ad esempio dentro un sistema come quello di CamTV oddio soprattutto in un sistema come come CamTV io vedo l'utilità di un token NFT perché CamTV nasce per dare la possibilità alla gente di condividere le proprie passioni sì innanzitutto ma soprattutto di realizzare qualcosa di proprio e condividerlo con le persone quindi quale soluzione è meglio di un token NFT che va anche a garantire che tu sei il titolare di un'opera di un prodotto di un corso o di qualsiasi altra cosa che viene messa in CamTV quindi secondo la mia visione personale il mio concetto CamTV con l'NFT è ancora più completa di quanto lo sia adesso assolutamente sì anche proprio per il discorso del diritto di proprietà diritto di proprietà no esatto esatto senti ok allora abbiamo parlato un po' dell'NFT che è una parte importante sai che noi queste nostre dirette durano 45 minuti proprio perché vogliamo concentrare non fare discorsi vuoti vogliamo sempre andare a bomba sulle cose e anche perché i nostri amici ormai si sono abituati chi ci sta seguendo adesso vediamo in quanti siamo ad esempio siamo in 46 persone vediamo se qualcun altro ci ha scritto Giuseppe Polimeni ci saluta aspetta che però c'è una domanda Luca Barracco ci saluta c'è una domanda di Pisani sui token ma i token che noi founder abbiamo accumulato nel tempo che abbiamo recentemente riscattato quanto valgono si potranno vendere da quando allora guarda Massimo su queste domande qui faremo degli altri webinar adesso tra poco vi saranno comunicate via mail e tutt'altro e in tutti gli altri modi le date generalmente come orario stiamo scegliendo le 18 come orario fisso da tenere su queste date cominciano proprio tra poco penso già la prossima settimana ci sarà il primo dove parliamo specificatamente della security token offering per cui parliamo anche diamo risposta a tutte queste domande sinteticamente ti dico a livello nominale quel token lì dovrebbe essere intorno a 1 euro e 25 adesso che era se non sbaglio che era l'ultima quotazione che sapevamo del voucher token riscattabile che in molti l'hanno riscattato ancora chi non l'ha fatto lo faccia per tanti motivi uno perché c'è un termine cioè se non lo riscatti entro un certo periodo rischi di perdervi ed è un peccato due perché mentre stiamo facendo la raccolta questa STO è un po' importante il cosiddetto effetto ristorante cioè da fuori tutti quelli che non ci conoscono che non conoscono CAMTV vedono la campagna di CAMTV se i voucher token vengono riscattati cioè se tutti i founder riscattano velocemente i loro voucher token da fuori si ha un'impressione che insomma che la conversione è ancora di più di quello che è già normalmente quindi andiamo tutti ad avere dei vantaggi per quanto riguarda quanto saranno loccati non voglio dire una cavolata quindi aspetto le dirette dove si parlerà di questo dovrebbe essere credo un anno una roba del genere o meno o di più non lo so l'ultima informazione che avevo era su un anno però è una cosa delicata per cui è come prendila con le pinze ecco questa mia giusto perché ci conosciamo Massimo e voglio darti una risposta non voglio lasciarti la domanda sospesa allora andiamo avanti un po' con il discorso invece di una di una criptovaluta tanti parlano di cripto tanti parlano di di token no a volte considerandoli un po' la stessa cosa perché adesso è molto facile per tante persone nel mondo mettere fuori una moneta la chiamo ciccio ciccio faccio uno smart contract la metto su uniswap oppure su pancake swap in pull con gli ethereum o nel caso i pancake swap con i bnb con uniswap degli ethereum ovviamente la metto fuori così e quella roba lì va sul mercato ha una sua vita speculativa può salire o scendere a seconda di che sito ci ho associato ma può non esserci neanche una una società dietro mentre invece ben altra cosa ad esempio quello che hai fatto tu con gli lks no gli lks della fondazione lks coin foundation allora due notazioni delle cose che che sono un attimino più di pubblico dominio sono è un hard fork del dash quella 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 blockchain ma è di fatto una blockchain proprietaria parlaci un po' che differenza c'è davvero tra l'lks e la ciccio ciccio coin beh c'è una differenza sostanziale innanzitutto volevo voglio premettere una cosa la tendenza di passare tutti sul token cioè quelli che i token che hai premesso un attimo fa è per la facilità e soprattutto perché una volta che hai creato lo smart contract per quel determinato token tu non hai più bisogno di manutenzioni non hai più bisogno di fare aggiornamenti non hai più bisogno di niente perché girano già all'interno di una blockchain che è l'ethereum o il bnb della situazione o matic o ligon come sta uscendo come sta prendendo piede adesso mentre una blockchain proprietaria comporta ad avere sempre delle lavorazioni comporta ad avere sempre degli aggiornamenti comporta ad avere sempre delle problematiche controattacchi esterni che avvengono e via dicendo quindi innanzitutto la differenza è sostanziale uno come hai detto blockchain proprietaria di cui sei responsabile tra virgolette responsabile utilizzato magari un termine non corretto ma hai comunque ti grava o grava ad esempio nella fondazione LKS il continuo aggiornamento del del software per 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 oltrepassare gli eventuali bug o attacchi che possono risultare e anche oltre alle classiche migliorie dall'altra parte un sistema che una volta fatto ti dimentichi fra virgolette di avere diventa tutto più facile questo è quanto poi a livello di tokenizzazione non è neanche il problema del minaggio in quanto il mining è sempre legato al BNB di turno o all'Ethereum di turno mentre nel caso di una blockchain proprietaria che lavorano comunque in proof of work hai anche il problema del minaggio e anche il rischio di avere determinati attacchi questo è sostanzialmente a livello tecnico la differenza ecco grazie Omar senti invece vabbè sappiamo anche che i token che ci sono ad esempio quelli che facilmente si possono fare anche ci capita anche spesso farli per aziende e quant'altro nulla è facile Alessandro perché sembra no ma dico non hanno dei masternode che li minano come quelli degli LKP no ma possono essere utilizzati anche in quella fase lì allora diciamo che il token tralasciando la blockchain proprietaria e parliamo di token ovvero il token che è un numero un bit con un determinato nome un determinato numero di 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 creazione fatta gira su una blockchain che è esterna cioè è l'Ethereum o BNB come detto qui e non c'è un masternode solitamente che lega perché il masternode deve avere un nodo tuo e dovresti essere anche blockchain proprietaria come è nel caso dell'LKS con l'X11 diciamo che comunque i token vengono creati gestiti soprattutto gestiti non solo in fase di creazione da degli smart contract da dei contratti intelligenti quindi nulla vieta di trovare delle soluzioni che non dico siano dei masternode ma delle soluzioni che ad esempio vanno a pagare gli holder come è capitato recentemente di fare un contratto e di conseguenza dare dei bonus a delle persone che detengono magari più token di un determinato tipo quindi si va a simulare l'effetto masternode ma non potrai mai avere un effetto masternode in quanto tu non hai un nodo nato apposito per quel token invece a me interessa un po' il discorso dei masternode dell'LKS perché è un approfondimento tanti ce ne sono circa mille no? si un migliaio circa ce ne vantiamo anche giustamente perché essendo l'unica blockchain proprietaria in Italia ricordiamocelo gli altri li hanno provati noi dell'LKS ci siamo riusciti l'abbiamo portata a compimento e tuttora è fuori e tuttora ha transazioni continue che sono nettamente più alte anche di quelle del Dash per noi è orgoglio puro questo nel caso dell'LKS ci sono effettivamente i masternode masternode cos'è se posso fare un preambolo veloce un masternode è un semplice nodo cioè una blockchain proprietaria per rimanere in piedi deve avere una connessione un'interconnessione tra vari nodi i nodi sono dei server che possono essere anche i nostri computer semplici non serve immaginare un server collegato di internet che sa in che parte del mondo basta anche un computer all'interno del tuo computer ci metti un programmino che nel caso dell'LKS si chiama LKS Core e quello diventa un nodo quindi tu come nodo già garantisci la veridicità delle transazioni ovvero se Omar invia ad Alessandro un LKS il mio nodo come il tuo nodo come il nodo di qualcun altro nello stesso istante va a controllare che quella transazione sia effettivamente valida ancora prima del minaggio ok il minaggio arriva dopo i nodi quando accettano la transazione e assieme a tutte le altre transazioni che sono state fatte più o meno nello stesso tempo vengono tenute in memoria in memoria fino a quando fino a quando un minatore andrà a convalidare la veridicità e la la correttezza di tutte le transazioni contenute all'interno di un blocco e chiuderà il blocco come una scatola con all'interno tutte le transazioni e ci metterà una propria firma chiamato l'hash il classico hash che si sente comunemente quando si parla di blockchain ottimo questo è il caso del minatore ma noi abbiamo una figata lasciami il termine figata il masternode il masternode cosa fa? ha una funzionalità che va convalidare in anticipo le transazioni e le rende effettivamente spendibili ancora prima che il minatore chiuda il blocco però lo fa mettendo a garanzia dei fondi che ha all'interno quindi da un semplice nodo di cui ne abbiamo discusso prima messo nel computer abbiamo bloccato all'interno dei fondi quindi sempre nel nostro nodo non sono fondi che vengono dati a terzi soggetti ma ce li teniamo sempre noi ma diciamo la blockchain questa parte di fondi tienila ferma lì perché voglio garantire le transazioni veloci e per questo viene remunerato nel caso dell'LKS è una remunerazione dell'80% del valore del minato questa qui è una roba eccezionale che c'è soltanto sull'LKS non ci sono sull'LKS ma c'è una roba che ti è venuta in mente una mattina è venuta in gruppo non è venuta in mente in mente a me non posso prendermi meriti che sono anche di altri che saluto e che abbraccio in via telematica ovviamente comunque è stato uno studio questo ma la soluzione tecnica per arrivare cioè un conto di dire l'idea no dire andiamo su Marte che è una figata ok ok ma da lì a costruire tutto per arrivarci su Marte com'è stato quel percorso lì quel processo sono anni 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 di sudori anni di notti insonni anni di anche litigate costruttive non dimentichiamocelo che hanno portato comunque un risultato che per me è eccellente ma dove è stata l'intuizione tecnica qual è stata tra le tante sicuramente l'intuizione tecnica o c'è stato qualcosa che hai visto in giro che ti ha fatto venire in mente che poteva essere utilizzato per diventare una parte di questo sistema diciamo il dash non parlo in prima persona ma parlo in maniera abbastanza oggettiva il dash quando ha creato il concetto del master mode il primo a farlo è stato il dash non possiamo togliere il merito a questo ha detto chi garantisce le transazioni veloci si porta a casa al 50% l'altro 50% resta il minatore io adesso parlo di numeri poi c'è anche una volendo un'altra parte frazionata che in questa fattispecie non ha senso che spiego noi come LKS abbiamo deciso di aumentare il premio al master mode per un concetto perché i master mode che prendono maggiori guadagni sono incentivati a creare altri master mode aumentando il numero di master mode sulla rete si va a garantire la la solidità della rete stessa e si evita che arrivi qualcun altro e che metta grossi capitali e che possa comandare oltre il 50% della catena stessa quindi è un incentivo nato soprattutto per un concetto di solidità di sistema oltre che per il fatto di un'idea qui chiamo in causa anche Elon Musk che recentemente in maniera secondo me un po' azzardata e senza senso ha parlato di Green ma noi abbiamo ragionato prima di Elon Musk sul Green perché abbiamo detto se noi dovessimo continuare a dare tanto ai minatori i minatori fanno la gara per mettere giù altre macchine per minare che sono dei macchinari informatici che consumano tanta elettricità quindi disincentivando questo i minatori saranno pochi e il consumo effettivamente energetico sarà ridotto quindi abbiamo lavorato sul fronte del facciamo crescere la rete in maniera Green e solida incentivando chi va ad investire il capitale creando odlers lasciatemi il termine e sul come posso dire nella community dell'LKS Omar ti faccio un'altra domanda è molto interessante vedo che sono collegati in tanti e questo mi fa piacere perché effettivamente stiamo andando un po' a sezionare l'animale cioè a vedere una roba che dove si vede sempre solo la scocca invece parlare di quello che c'è dentro parlare con le persone che hanno fatto la cosa dentro è sempre molto interessante su tutto in particolare in modo su un'infrastruttura come può essere uno social network come si collegano cioè gli LKS noi vediamo che si possono comprare si possono già da dentro Camp TV si possono scambiare si possono regalare si possono ricevere come pagamenti per i propri servizi si possono vengono utilizzati in tanti modi c'è qualcuno che dona LKS perché anche donando LKS a determinate persone sotto determinati post aumenta il suo ranking quindi di conseguenza si va a creare una visibilità su un argomento che magari è poi funzionale a quello che questa stessa persona che ha fatto la donazione propone sul mercato quindi tante dinamiche interessanti ma come si collega la parte LKS coin per cui questa blockchain come si aggancia nell'infrastruttura di Camp TV come viene gestita a livello tecnico è stato è stata un'operazione molto ardua e abbiamo speso molto tempo per riuscire a interfacciare in maniera precisa e perfetta il sistema diciamo grossolanamente non vengono utilizzati i nodi cioè per capirci quando io devo inviare una transazione io devo inviare soldi ad Alessandro scusatemi non soldi ma LKS ad Alessandro uso il mio nodo all'interno del mio programmino del mio nodo metto l'indirizzo LKS di Alessandro invio 1 10 100 1000 LKS do l'invio e faccio e questo avviene tramite un nodo beh prova prova in diretta prova in diretta mandami qualcosa eh no no non ho questo computer non ho questo computer semplicemente questo casualmente se vuoi sto scherzando se vuoi te li giro in token non è nessun problema e dopo entriamo anche nel concetto token bravo vai vai sto scherzando però bravo che hai lanciato comunque abbiamo abbiamo il programmino il core il nodo famoso che ho citato prima ci si può interfacciare su questo programmino anche tramite delle chiamate rpc in gergo tecnico il che significa che io tramite una connessione e con le password con tutte le con tutti i sistemi di sicurezza che servono mi collego al nodo e posso dire dall'esterno invia un LKS ad Alessandro questo nel sistema di CamTV non è stato utilizzato abbiamo utilizzato un concetto ancora più avanti più innovativo cioè ogni volta che l'utente fa una transazione avviene un calcolo all'interno del server di CamTV automatico che va a generare l'esce e lo butta fuori in rete bypassando quello che è il nodo e la lentezza del nodo ecco perché come CamTV scusate per CamTV diventa molto più semplice fare una transazione in maniera rapida ed è sempre sincronizzata con la blockchain interessante poi invece stavi inserendo il discorso dei token ho fatto la battuta a te abbiamo abbiamo anche utilizzato il token allora l'LKS anche sempre per un concetto di innovatività e soprattutto per un concetto anche di utilità sotto un certo aspetto e tra non molto anche ne vedremo delle belle proprio su questo abbiamo deciso di dare la possibilità di fare un cambio uno switch ai detentori dell'X11 verso un token LKS però girato in ambito blockchain Ethereum questo perché immaginiamo di voler andare su Uniswap a cambiare a cambiare gli LKS prima di per fare quel cambio per lavorare su Uniswap ho bisogno prima di cambiare gli LKS X11 cioè il modello minato con Masternode e quant'altro in una forma di token uno a uno ricordiamo entra uno esce uno e abbiamo la possibilità di interagire con tutto il resto del mondo dei token senza essere limitati solo alle blockchain native quindi partiamo da un concetto di blockchain nativa e abbiamo tramite un sistema nostro chiamato Swap Machine la possibilità di convertire parte degli X11 LKS in RC20 entrando direttamente nel mondo della tokenizzazione non aver fatto questa scelta sarebbe stato limitativo nei confronti della LKS magari le opinioni possono essere tante favorevoli anche discordanti però è fondamentale ricordarsi che in futuro la tokenizzazione sarà sempre più sarà sempre più utilizzata e di conseguenza limitarci a restare su una blockchain nativa e veramente limitativo scusate il gioco di parole quindi il fatto di poter interfacciarsi su un mondo futuro ancora più grande siamo già col piede anche perché di là ci sono tutte le possibilità di farming di stacking tutto quello che sta venendo fuori in ogni ecosistema ovviamente gli ecosistemi dove queste cose portano i vantaggi più grossi sono quelli dove ci sono tanti diversi token tutti basati su una stessa blockchain cioè il mondo ethereum e il mondo bnb nel caso di bnb noi non abbiamo ancora lo swap il wrap in bnb fermo restando che potrebbe essere un qualcosa su cui discutere ma tu dici che è un insight dici che c'è la possibilità di andare a pensare lo vedremo nel tempo momentaneamente non c'è però intanto c'è sull'ethereum che voglio dire poco non è assolutamente sì non per niente su coinmarketcap siamo listati sia in ethereum che in x11 e ricordiamoci che non vengono creati più token di quelli che sono già emessi per creare dei token in base ethereum io devo inviare 100 il sistema blocca quei 100 quindi non sono più a mercato come chiusi in una cassaforte vengono emessi dei token su base ethereum quindi il numero circolante di lks sarà sempre fisso e quanti sono gli lks adesso siamo sui 2 miliardi e 100 credo 2 miliardi e 2 adesso il numero preciso non lo ricordo mi sembra che alla fine del minaggio totale siamo attorno ai 4 miliardi di coin totale per cui ne sono stati minati una metà abbondanti diciamo una metà abbondante e ci sono delle previsioni che possiamo noi detentori possiamo fare su quanto ci vorrà a finire di minarli e da cosa dipende questo allora delle previsioni si possono fare già leggendo il white paper o il yellow paper della situazione si possono trovare delle previsioni in media un blocco viene minato ogni 2 minuti e mezzo mediamente c'è la volta che ci mette 10 minuti e dopo ci sono 3 blocchi ogni 30 secondi di cadenza ma se andiamo a fare una media è di 2 minuti e mezzo quindi calcolando il numero di blocchi che servono ad arrivare all'ultimo blocco effettivo minato meno quelli già minati diviso 2 minuti e mezzo grossomodo dovremo riuscire a intuire più o meno il periodo di fine del minato quindi la discriminante è quella che porta è una costante più che altro perché il tempo medio è grosso modo diciamolo così costante cosa può variare nel tempo medio se ci fosse un continuo aumento di potenza di calcolo dietro che va a ridurre di volta in volta il tempo e giustamente la blockchain per dare una certa difficoltà al calcolo troppo facile va ad aumentare la difficoltà stessa che lo sentiamo comunemente anche nel bitcoin o quant'altro quindi il fatto della difficoltà quando si parla di minaggio di mining è proprio causata dall'aumento dei minatori esterni perché l'aumento dei minatori esterni porterebbe una riduzione del tempo di blocco che dovrebbe essere fisso e la blockchain si difende dicendo ah tu mi hai già risolto la soluzione di calcolo in così poco tempo bene io ti aumento la difficoltà prossima volta ci metti 5 minuti a calcolare interessante senti un'altra cosa un'altra domanda che è molto interessante proprio perché adesso c'è in corso in pieno svolgimento la security token offering di CamTV che potete andare tutti se non siete già andati andate su camtv.io come vi ricordo anche perché in Europa mese per chi vuole acquistare i token di CamTV che poi ovviamente hanno diritto a benefici economici su quello che è la piattaforma fattura adesso se non sbaglio ce lo no non sbaglio ce lo sconto in questo mese intanto vedo che Omar mi si è bloccato però ti sento però ti sento andate a vedere su camtv.io dicevo se ancora non l'avete fatto avete dei voucher token andate nella vostra area founder e convertitevi subito bisogna fare una KYC ma è un processo piuttosto spedito io stesso l'ho fatto in pochissime ore mi è stato risposto via mail e di conseguenza poi adesso ce li ho già lì che si vedono nella nella mia nella mia pagina si vedono proprio come come numero Omar questo tecnicamente abbiamo parlato di tanti aspetti di questa security token offering dagli aspetti legali dagli aspetti normativi dagli aspetti formali anche dagli aspetti di marketing di come viene proposto però come sempre non si parla neanche più di tanto tecnicamente come sono fatti che animale è questo token il token nel dettaglio quello del quello di cam quello di cam quello di cam adesso non ho i dettagli in mano per poter dire esattamente come è fatto ma preferisco stare su un concetto un po' più generale di cui magari questo fa parte semplicemente quando tu vai a creare un token vai nella blockchain di ethereum vnb o quant'altro in questo caso ethereum e dici mi servono un top numero di spazi di memoria ok dei bit qualsiasi all'interno di una determinata come posso chiamarlo di una determinata lista di indirizzi chiamiamolo così mi servono comunque dei numeretti a quei numeri che sono i singoli token attribuisco un nome e un simbolo quindi io creo nome simbolo numero di token dopodiché posso anche decidere come distribuirli tramite chi a chi quando perché e quant'altro è abbastanza semplice ma il contratto di un token è andare su ethereum a dire nome simbolo e numero di pezzi numeri di pezzi che a volte possono anche essere cambiati in più o in meno mint nel caso in cui aumentano il numero di pezzi burn quando si va a bruciare dei pezzi quindi io posso generare un ton numero di bit di token su questa blockchain ethereum con un determinato nome e dopo bruciarne la metà nessuno mi vieta di farlo ovviamente deve essere tutto contratualizzato quando si va a deployare il contratto stesso in blockchain ottimo allora stavo vedendo se rifermo no intanto prima di farti l'ultima domanda ti dico che hai esordito dicendo che te parli poco che non vuoi parlare di tutti gli ospiti che ho avuto fin dall'inizio e poi in buona parte li conosci e anche qualcuno parla tanto guarda più di Valerio non credo ti giuro hai parlato più di Valerio sei l'ospite che ha parlato più di tutti più di tutti per me è un piacere è un piacere anche perché per il rapporto che c'è stato comunque con Campidu e per il lavoro che abbiamo fatto assieme e dedicare del tempo per la crescita e soprattutto per la realizzazione di questo progetto in primis per me è un grosso piacere personale poi ci sono insomma i founder che per noi sono un po' come una famiglia non ti sento più si stiamo ascoltando no ci sono ah ok no dicevo anche per noi poi i founder sono proprio a parte che sono tutti belli ormai li conosciamo da anni abbiamo lavorato gomito a gomito abbiamo fatto una campagna in crowdfunding che è stata insomma che è ancora record europeo di raccolta in reward based nessuno è riuscito a scardinarla nemmeno io quindi ed è una roba insomma non hai superato il maestro non ho superato me stesso però ci provo tutti i giorni magari con qualche altra cosa ce la faremo il il senso di community è una cosa importante magari con qualche altra cosa ce la faremo ah scusate ti è partito l'audio mi è partito l'audio il senso un po' è molto valoriale anche rispetto a questa cosa che stiamo facendo adesso dell'STO questo è la parte più importante di tutti sono i founder sono le persone che ci stanno ascoltando adesso il motivo per cui io sono qua e magari anche te sei collegato adesso è questo siamo in un momento importante perché i prossimi mesi secondo me sono veramente fondamentali per tutto questo progetto che parte da lontano dove adesso siamo qui due persone ci hanno messo tanto della loro vita delle loro competenze le loro cose dentro per cui è ovvio che ci teniamo per me è stato particolarmente bello averti qui perché come tutti sanno noi siamo anche soci in altre situazioni collaboriamo tantissimo io ho imparato veramente a volerti bene in questi anni sia dal punto di vista di come sei tu personalmente ma anche dal punto di vista professionale da quella volta quel genio esregolatezza che penso che ti è saltata la luce e ti è successo qualcosa di strano Omar non lo vedo più penso che sia saltata la luce comunque mi dispiace di chiudere così però si è fatto l'ora per chiudere questa diretta per cui ringrazio tutti di essere stati qui con me e con Omar Baruzzo per cui vi mando un abbraccio e vi ricordo che il 20 ce n'abbiamo un'altra di diretta importante con un altro ospite molto importante che è anche un amico Marco Laurenti per cui continuate a seguire questi contenuti ovviamente sono gratuiti potete continuare a riguardarli e niente avanti tutta go come go e buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie.